È tornata alla luce l'antica sorgente di Porta Marina, la fonte d'acqua dell'antica città di Poseidonia. Nascosta per anni tra le sterpaie è stata ritrovata, qualche giorno fa, grazie agli interventi di pulitura delle antiche mura, inseriti nel protocollo d'intesa sottoscritto da Comune di Capaccio, soprintendenza per i beni archeologici, Consorzio Sinistrasele e associazioni di manutenzione e valorizzazione delle antiche vestigia pestane. Un intervento ha finalizzato ad offrire al turista una visione d'insieme del patrimonio archeologico che rientra nell'antica città magno-greca di Poseidonia. Il consigliere comunale e delegato allo sviluppo dell'area costiera, Maurizio Paolillo, ha dichiarato La sorgente di Porta Marina è una delle tante deviazioni del fiume Capodifiume. Esso compie un percorso sotterraneo e dopo aver attraversato tutta l'area archeologica, sgorga nelle vicinanze dell'ingresso a ovest di Pestum. In cantiere ora ha anche un percorso pedonale e ciclabile che seguirà il cammino della fonte, a cui sarà dato nome Via dell'Acqua.